Visita di una delegazione di parlamentari europei di sette diverse nazionalità nella parte orientale della Sicilia. Ascoltiamo l'europarlamentare Michela Giuffrida. Bisogna utilizzare la grande opportunità che abbiamo. La Commissione europea ha approvato proprio il 17 agosto il nostro POFESD. Ci sono 4 miliardi e mezzo, e tolgo le briciole che in questo caso sono milioni, 4 miliardi e mezzo a nostra disposizione con un cofinanziamento del 75%. È un'opportunità che noi non possiamo permetterci di perdere. Noi chiuderemo la vecchia programmazione che ha avuto la proroga fino al 31 dicembre non utilizzando purtroppo tutti i soldi, io dico così, parlo chiaramente, che l'Unione Europea aveva destinato alla Sicilia. Non facciamo lo stesso errore. Io vorrei una maggiore partecipazione del Governo regionale, anche ad appuntamenti come questo. Perché noi ci siamo tanto impegnando. Ho fatto in modo che questa delegazione di europarlamentari arrivasse qui in Sicilia. Non è stato facile portarli qui. Però ci siamo riusciti. Facciamo vedere la nostra faccia migliore. Facciamo vedere che siamo anche in grado di fare e non solo di chiedere. E atteniamoci alle regole. Queste visite in Unione Europea si fanno per verificare quanto è stato fatto e per capire quanto c'è ancora da fare. Ecco perché è una grande opportunità avere qua 12 europarlamentari di 7 nazionalità diverse. Facciamo vedere che siamo riusciti a fare, come in questo caso. Questo diceva un fiore all'occhiello. Ma facciamo anche vedere che c'è tanto ancora da fare. Ci daranno fiducia per creare occupazione e sviluppo, che è quello di cui abbiamo bisogno.